anteporre. Questa è una parola chiave che troviamo nella preghiera della colletta ed è un po' presente in tutta la parola di Dio ed è la parola o il messaggio che San Benedetto da Norcia ci consegna e questo ci porta a chiedere noi nella nostra vita cosa anteponiamo? Qual è la cosa più importante? Qual è quella cosa che ha una priorità su tutto senza la quale la mia vita, la tua vita, la nostra vita perde di sapore, perde di gusto, perde di bellezza? Cosa noi anteponiamo? Ed è molto importante perché da qui comprendiamo il nostro cuore, comprendiamo la nostra gioia, comprendiamo ciò che più cerchiamo nella nostra vita, perché è chiaro San Benedetto ci mostra come lui non antepone nulla dinanzi all'amore di Cristo. È l'amore di Cristo che dà pienezza, bellezza, gioia e profondità all'assistenza di una persona. Sì, sembrerebbe una formula, sembrerebbe una enunciazione astratta, ma quanto si sperimenta l'amore di Cristo, la vita è diversa e questo va ravvivato ogni giorno, in ogni momento, in ogni situazione della nostra vita, soprattutto in quei momenti particolari, è lì che l'amore di Cristo ti dà la bellezza della tua esistenza. Buon amico.